Conquistano un punto di controllo, fermiamoli! 5 punti di controllo e abbiamo vinto! Lo schieramento del lico è superiore al nostro! I scanner rilevano la nave di Dark Fender nella vostra area. Attenzione! Allarme! Soldati imperiali in vista! Ci siamo impossessati di un punto di controllo! Il potere del lato in scuro! Sì! 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 Difendere il punto di controllo! Sta cadendo in mano imperiale! Nemici in vista! È finita! Abbiamo sconfitto Fener! I soldati imperiali stanno occupando un punto di controllo! Dobbiamo fermarli! Abbiamo sconfitto Fener! Abbiamo sconfitto Fener! Le nostre spie dicono che Fener è nei paraggi! Massima allerta! Skywalker in zona per fornire supporto! Venete duro! Siamo in vantaggio! Stiamo conquistando un punto di controllo! Questa è la fine per il Signore Oscuro dei Sith! Sì! 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 Quelle teste a secchi imperiali stanno per conquistare un punto di controllo! Stiamo occupando l'ultimo punto di controllo Stiamo occupando l'ultimo punto di controllo Stiamo occupando l'ultimo punto di controllo